Buongiorno a tutti, siamo qui nella sala della Regione Marche, a Sara Raffaello, per presentare un importante convegno istituzionale che verrà fatto sabato prossimo 26 al Teatro Ventidio Basso su intelligenza artificiale e sanità. Frutto di un'alleanza istituzionale tra me come consigliere regionale, l'assessore Saltamartini, il Servizio Salute e soprattutto la partnership del Comune di Ascoli e del Sindaco di Ascoli. Perché credo appunto che soltanto forti alleanze istituzionali, forti collaborazioni istituzionali riescono a fare i progetti per il territorio della Regione Marche. Questo è un convegno regionale che abbiamo scelto di fare ad Ascoli perché riteniamo anche che laddove esistono le fragilità maggiori e quindi diciamo che il sud delle regioni, così come il sud d'Italia, là esistono le fragilità maggiori, allora proprio lì bisogna fare quel lavoro culturale importante per spiegare ai cittadini, alla classe medica, alla classe ingegneristica, quello che sono i cambiamenti del momento. Per cui ecco, io non mi voglio dilungare perché poi ci sarà il convegno a spiegare una serie di cose. È chiaro che il tema è l'intelligenza artificiale, è un punto fondamentale della trasformazione che stiamo vivendo. Ci sono grandi investimenti da questo punto di vista a livello internazionale. Quanto più dibattito culturale si crea attorno a questo tema, tanto più saremo preparati e tanto più riusciamo ad indirizzare bene questo strumento che dovrà essere uno strumento, un aiuto a far sì che la sanità possa migliorare, ma non può diventare, voglio dire, l'intelligenza artificiale con lei che guida i percorsi sanitari. Per cui è un dibattito in atto, noi avremo dei relatori importantissimi, quindi non voglio rubare la scena a quello che sarà il dibattito culturale, quello che è il nostro intendimento, e qui ringrazio molto l'assessore Salta Martini, è quello di portare il dibattito tra i cittadini e soprattutto anche tra gli operatori sanitari e gli ingegneri che sono anche artefici di questa trasformazione. Quindi passerei la parola al sindaco di Ascoli, che è la città ospitante, e anche il sindaco che ha accolto questa nostra istanza. Buongiorno, allora ringrazio la consiglia regionale Monica Ciari, l'assessore Salta Martini, perché questo convegno è molto importante non solo per Ascoli, io direi anche per tutto il territorio regionale e non solo, perché in realtà l'intelligenza artificiale, avvicinarla al tema della sanità è importante, perché l'intelligenza artificiale può essere un veleno o una medicina, dipende da come lo utilizziamo, quindi governare l'intelligenza artificiale può portare a un miglioramento dei servizi sanitari, subirla purtroppo porta solo a un disastro, perché noi in questo momento siamo come un veliero che governa le vede e non il vento, perché il progresso tecnologico avverrà, non possiamo fermare il vento con le mani, quindi governarlo significa utilizzare il progresso tecnologico per migliorare le prestazioni, per migliorare la vita professionale dei nostri medici, per migliorare la qualità della cura e anche la qualità di vita del cittadino. Quindi è nato così il convegno, quindi porteremo relatori di carattere nazionale per far comprendere, soprattutto per ragionare insieme, come poter utilizzare il progresso per migliorare la qualità del servizio e anche per far uscire un messaggio forte, che uno non vale uno, quello che dice il sindaco di Ascoli non è uguale a quello che dice il dottor Draishi o quello che dice un medico o quello che dice uno scienziato, quindi dobbiamo soprattutto per quanto riguarda la salute e la sanità, dobbiamo avere la capacità e la consapevolezza di dare voce a gli scienziati, i medici, il personale competente per poter utilizzare il progresso come strumento di miglioramento. Quindi grazie e ovviamente invitiamo tutti ad Ascoli sabato 26 ottobre nel Teatro 22 Basso dalle ore 9 alle ore 13 questo importante convegno. Grazie. Bene, diamo la parola al dottor Draishi. Grazie dell'occasione. L'intelligenza artificiale ormai ne sentiamo parlare da un po' e si cominciano a vedere anche segni evidenti delle prime applicazioni in ambito sanitario, in particolar modo nell'utilizzo nelle tecnologie. In questo caso parliamo di tecnologie radiologiche. Giustamente come diceva il sindaco, l'intelligenza artificiale è una grandissima opportunità e l'utilizzo della stessa va calato in una realtà dove non è sostitutiva dell'essere umano, quindi non è sostitutiva del professionista, ma deve essere uno strumento tecnologico che grazie anche all'elaborazione di una quantità di dati e nella simulazione di processi cognitivi simile all'intelligenza umana consente di poter elaborare con algoritmi un volume di dati tale da essere da supporto alle decisioni. In questo caso parliamo di decisioni cliniche. È chiaro che nel momento in cui noi parliamo di intelligenza artificiale applicata alla sanità, essendo in questa fase già uno stato avanzato, grandi progressi ci aspettiamo anche per il futuro e grandi progressi ci aspettiamo anche in termini di miglioramento qualitativo della prestazione, oltre che quantitativo. Da un punto di vista qualitativo non possiamo sottacere che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con la possibilità di poter analizzare un volume di dati numeroso, consentirà al medico di minimizzare il rischio d'errore. Quindi questo da un punto di vista proprio di rischio clinico ne ha un beneficio direttamente il paziente che potrà avere sempre più diagnosi accurate, ma soprattutto diagnosi veloci, perché anche il processo deduttivo, in questo caso, in termini di refrettazione e quindi di restituzione del vesito, è molto più breve. Non dimentichiamo che gli stessi sistemi, questa è una branch della parte informatica, vengono utilizzata anche già in altri ambiti, anche della stessa, della sanità, sia per esempio nella gestione dei posti retto, ma anche nei processi logistici, che all'interno delle realtà sanitarie sono altrettante attività di supporto che concorrono all'erogazione di una migliore prestazione. Molto importante è anche il segmento di utilizzo di queste opportunità per l'assistenza all'anziano, sia in struttura esidenziale, ma anche a domicilio del paziente. Questi sistemi ci potranno garantire di dare una migliore risposta a una popolazione che sta cambiando, a una popolazione che si sta sempre più invecchiando. L'evento è un evento che, mi concratulo con gli organizzatori, ben strutturato, un evento dove ci sono presenze veramente di figure, di spessore e di alto rilievo. Un in bocca al lupo a tutti quanti gli organizzatori, ma soprattutto anche ai partecipanti e a coloro i quali si presenteranno e parteciperanno a questo evento. Spero che questo sia il primo di una serie di eventi che ci consentirà di poter portare questa esperienzialità su tutto il territorio marchigiano. Grazie, buon lavoro. Grazie, adesso diamo la parola all'assessore Saltamartini. Allora, perché presentiamo questo evento con una conferenza stampa, visto che i contenuti verranno approfonditi e esplicitati sabato, per la rilevanza di questo evento e perché questo coinvolge la Regione Marchi, in particolare l'Assemblea Legislativa Regionale con Monica Ciarri, il Sindaco di Ascoli e naturalmente la Giunta Regionale e l'Assessorato alla Sanità. Intelligenza artificiale. Cinque imprese private stanno sviluppando, stanno addestrando delle macchine mediante l'apprendimento con dialoghi con testi che si misurano sui 3 milioni di testi. Nessun essere umano è in grado di conoscere tutte queste cose. Se non che solo il 5% di questi testi che sono inglesi rappresentano il contesto di tutte le nazioni, di tutti i popoli del mondo. Quindi c'è la necessità che il nostro Paese partecipi innanzitutto all'addestramento di questi soggetti. Il secondo problema è che naturalmente sono soggetti privati che hanno finalità di lucro, non certo di... e quindi per la prima volta nel mondo l'Europa, l'Unione Europea si sta organizzando, ha già approvato un regolamento, che lo ricordo, il regolamento dell'Unione Europea è immediata efficacia nel nostro Paese per limitare e per evitare che l'intelligenza artificiale possa andare a toccare la struttura fondamentale dei diritti di libertà, in particolare della riservatezza delle persone, perché per esempio il dato sanitario è il dato più importante e rilevante della riservatezza, nel senso che ognuno di noi può stabilire se comunicare il dato della propria condizione di salute e quindi questo passaggio è un passaggio molto ma molto importante che ci riguarda da vicino. Quindi c'è questo regolamento che entrerà in vigore fra qualche anno, si dice fra due anni, ma noi dobbiamo già cominciare a lavorarci. Che cos'è naturalmente la riservatezza della vita privata? Tanti anni fa alla principessa Carolina di Monaco fu fotografata in una piscina in Germania e si aprì il dibattito sulla riservatezza. Chi potesse, capite bene che l'intelligenza artificiale entra sulla riservatezza in modo molto più penetrante. Immaginate solo se il sistema pubblico conosce di una patologia che poi impedisce di assumere una funzione pubblica. Non per esempio per entrare nelle forze armate bisogna avere determinati requisiti. Quindi il limite del potere statuale riguardo a questi temi e quindi anche all'organizzazione. Diciamo che lo sviluppo è talmente impetuoso che c'è questo ingegnere italiano Riccardo Ruggeri che ha progettato questi robot con sembianze umanoidi che sono in grado di dialogare. 12 si chiamano Adamo 13 Eva e siamo in una fase assolutamente avanzata rispetto a quello che si dice. Io due stati fa durante l'estate un paio di giorni riusci a leggere un romanzo molto interessante però è carino Macchine come me si chiama la storia di questi robot umanoidi che alla fine si suicidano. Si suicidano perché? Perché non condividevano la brutalità e la malvagità umana nel senso che gli umani sono capaci di uccidere di fare guerre di essere spietati. Segnalo questo meccanismo perché naturalmente la situazione è molto avanzata questo in via generale sull'intelligenza artificiale specificamente per la sanità noi già la impieghiamo perché attraverso l'intelligenza artificiale siamo in grado di processare per esempio a livello di diagnosi delle immagini di attacca e della risonanza magnetica un medico può visitare può verificare queste immagini di questi strumenti in numero molto limitati e attraverso l'intelligenza artificiale si ha un numero enorme di processi. Perché è importante questo? Perché sempre ai fini dell'impiego dell'intelligenza artificiale c'è questa applicazione della Google che esamina i nei per verificare la natura eventualmente cancerogena però che cosa è successo? Si è capito che per esempio la diversa colorazione della pelle impedisce di arrivare fino in fondo. Ora il tema in sanità è questo mettiamo che l'intelligenza artificiale segnala che un neo potrebbe avere le caratteristiche cancerogene il medico però il dermatologo ritiene di no quale prevale tra le due tesi quella della macchina o quella del medico quindi diciamo che ci sono delle questioni che vanno affrontate subito senza aspettare il regolamento dell'Unione Europea e quindi affrontarle con i maggiori esperti nelle marche e nella città di Ascoli ecco è l'oggetto di questa conferenza stampa cioè noi vogliamo anticipare in Italia dei problemi che sicuramente sorgeranno successivamente lo dico perché per fare un esempio chi di noi affiderebbe il viaggio su un aereo del 1915 della prima vera mondiale nessuno oggi chi viaggia in un aereo ha tutte le condizioni di sicurezza e così via noi vogliamo anticipare quello che potrà succedere per evitare che ci possano essere chiaramente delle questioni e dei problemi che poi noi dobbiamo affrontare successivamente quindi ringrazio naturalmente Monica Ciarri che ha voluto fortemente questo tipo di convegno il sindaco di Ascoli che è anche presidente dell'associazione comuni italiani e se mi permettete rivendico ecco che la regione Marche attraverso le sue istituzioni possa essere un vettore antesignano su problemi che io ho cercato di illustrare rapidissimamente ma che toccheranno nel vivo il futuro io penso che questa sia proprio la rivoluzione che passa dal trasporto con i cavalli alle macchine e questo quindi in questo passaggio noi vogliamo essere presenti e vogliamo dare il nostro contributo